Probabile svolta nell'ambito dell'indagine sul ciclista senegalese di 23 anni, travolto e ucciso da un'auto pirata, sulla strada che D'Empoli porta a Castelfiorentino, nella notte tra martedì e mercoledì. La procura di Firenze, infatti, ha iscritto una persona sul registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso sarebbe un imprenditore della provincia fiorentina. All'uomo che possiede un'attività commerciale è stato sequestrato un furcone bianco e sarebbero stati notificati gli atti del procedimento in cui è coinvolto. E' intanto bucche cucite qua la polizia municipale di Empoli che in queste ore sta compiendo rilevamenti e al momento ci dicono sono anche altre le piste che stanno seguendo. Insomma, al momento un atto dovuto anche a tutela dell'imprenditore al fine di nominare un consulente di parte in vista dell'autopsia sul cadavere che si terrà nei prossimi giorni. Sì, perché sarà proprio l'autopsia a capire soprattutto quando è morto il ragazzo che per l'ultima volta è stato visto a Empoli intorno alle 22. Ma per alcuni testimoni a mezzanotte e mezzo non era ancora accaduto niente. Io sono tornato a mezzanotte e non ho niente, proprio niente. Insomma ancora un caso che rimane nel mistero con la caccia al pirata della strada che continua.